Buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale in questa radio. Che ringrazio dell'ospitalità che continua ad offrirmi e a darmi. Come sapete io affronto degli argomenti che in questo lasco di tempo, in questi 15 giorni, più o meno hanno riempito le pagine dei giornali. Riprendiamo un attimo il discorso sulla Catalogna che sta tenendo sempre banco sui giornali e sull'opinione pubblica anche a fronte dei due referendum che ci sono stati in Italia sia nella Lombardia che nel Veneto. Con la vittoria sui giornali appare l'autonomia. In realtà i governatori dicono non siamo come la Catalogna ma vogliamo una imposizione fiscale che la nostra imposizione fiscale, la nostra in senso come Veneti e come Lombardi, rimanga nel territorio. Ho trovato uno scritto che condivido, uno scritto dei compagni fatto, l'ho trovato molto interessante e quindi su questo punto ve lo leggo. Il titolo è significativo, Campanili e botteglie, Catalogna e non solo. Non smetteranno mai di stupire i confaloni di paese, le parocchie e i campanili, insomma le piccole patrie. Ogni piccola provincia fonda le radici, dicono, sul giusto terreno e da quelli crescono e si innalzano il tronco, i rami, il fogliame. Dal cilindro poi, per magia, spuntano i coniglietti bianchi e le colombe tanto adorati. La lingua, la cultura, la religione, la psicologia, come cittadini di sangue o come atto di nascita del territorio avitto, spunta da un fondo paludoso, una sorta di mucillaggine che si chiama nazionalità. L'ideologia borghese, che ha appena due secoli, fonda il proprio stato di diritto, cioè la propria forza, sulla macellazione dei vicini non dotati di questi stessi diritti. Prodotte all'incirca dallo stesso stampo, spuntano come funghi gli individui catalani e spagnoli. Vivono all'incirca sullo stesso terreno, a cui pensano, parlano e scrivono, purtroppo. Lavorano e quindi si alimentano per vivere, alcuni facendo lavorare gli altri, si nutrono meglio degli altri e dominano sugli altri. Questo si scoprono per minute sfumature di colore, diversi per genere, per età e per le solenni scemenze che amano esibire in forma bilingue. Dalla base della piramide sociale fino al vertice si arampica la loro stupidità. In basso, i senza riserve, i lavoratori e più su le classi medie, più in alto ancora gli avvoltoi di più elevato tignaggio, non senza aver cozzato tra loro per arrivare primi. Dunque, di che soffrono i catalani? Vogliono godersi per l'intero il bottino, lo sfruttamento della classe? Da un lato qualche imbecile inventa un popolo oppresso contro uno stato dominante, e dunque avanti per l'autodeterminazione del popolo oppresso catalano. In questo fragente, l'uno chiama l'altro fascista, e l'altro gli fa eco. L'uno porta l'altare della democrazia a spasso per Barcellona, e l'altro, di contro, per le vie di Madrid, trascina il tabernacolo di quella stessa democrazia, in nome dei quali viene sgozzato il proletariato. Nazionalismo contro internazionalismo? Imbecilli organici. Nazionalismo dai trambi in lati. Indipendentismo contro nazionalismo? Stati macellai dai due lati, e nient'altro. Ecco, quello che noi abbiamo sempre detto e sottolineato, i proletari non devono mai essere partigiani, cioè lottare per una parte o per l'altra della borghesia, sono tutte e due uguali, qualcuno vuole sfruttare al meglio il proletariato. Il proletariato deve lottare per se stesso. Deve chiedere il cambiamento di questa società, che è basata sul denaro, sul profitto, su questa società che sta facendo disastri, sia ambientali ma umani, con le guerre, fomenta guerre per il profitto, eccetera. Ecco, noi dobbiamo essere autonomi come classe e lottare per i nostri interessi, che sono quelli dell'abolizione di questo sistema, basato sul salario. Chiudendo questa parentesi, quindi magari gli eventi ci faranno ritornare su questo punto, ma noi ribatteremo il chiodo dell'autonomia degli ultimi, che non devono schierarsi da un settore o dall'altro della borghesia, parliamo dell'industria 4.0. L'industria 4.0 che riempie anche questa ultimamente i nostri giornali, dove per esempio il governo Renzi, ma non solo, ecco la nostra borghesia, che dice che dobbiamo essere più competitivi, i nostri prodotti, beh io ritengo che siano i loro prodotti, perché questi beni non sono dati da un'analisi della collettività, cosa serve per la collettività, come lo dobbiamo produrre, in che modo lo dobbiamo produrre, in armonia con l'ambiente, e tutte queste cose, dove si prevede un piano di produzione in armonia con l'ambiente e la specie umana, sul mercato non esiste questo, non c'è un piano, si produce per la produzione, si lascia poi al mercato risolvere le questioni, ma sappiamo poi il mercato che cosa ha, produce sovrabbondanza di un prodotto al posto di un altro, e quindi esiste la crisi, la crisi perché non esistono i soldi per comprare questo bene, questo valore d'uso, perché chi lo produce, cioè i proprietari di questi prodotti, lo fanno produrre gli altri lavoratori, non per il valore d'uso che ha quella merce, ma per il valore di scambio, cioè per il denaro che alla fine riusciranno a cavare fuori da quella che è prodotto. Ma la notizia che volevo sottolinearvi è questa, se tutti vi ricordate Trump quando vinse le elezioni, soprattutto le vinse dicendo che i lavori devono tornare negli Stati Uniti, le fabbriche devono tornare negli Stati Uniti, perché è importante l'occupazione in questo grande Stato, negli Stati Uniti, e la disoccupazione è molto elevata, i lavoratori sono disoccupati, allora si parlava di incentivare il ritorno delle aziende nel territorio americano, e qui si parlava anche di sommenzionare queste aziende perché vadano o ritornino negli Stati Uniti a produrre. Ebbene, in un articolo, l'inchiesta del 7 ottobre di quest'anno, leggiamo una notizia particolare, dice l'azienda cinese che delocalizza negli Stati Uniti e crea magliette in 30 secondi con il robot. Allora, per fare una maglietta, dice l'articolo, basteranno 30 secondi e nessun operaio. E il made in USA del futuro prossimo, a partire dal 2018, cioè fra pochi mesi, l'Arkansas ospiterà uno degli stabilimenti, uno degli stabilimenti della Suzhou Tianyang Carmet Company, azienda cinese del tessile. Le promesse del Presidente Trump di riportare in patria le aziende fuggite all'estero è mantenuta per metà. Ci sarà del lavoro in più, ma non è americano, e soprattutto a fronte di una produzione di 23 milioni di t-shirt all'anno, saranno solo impiegati 400 persone. Miracoli dell'automazione. Il processo di produzione è tutto meccanizzato. I nuovi assunti saranno persone dotate di alta specializzazione e di conseguenza gli operai semplici non serviranno più. Al loro posto ci sono le macchine. Ma la vera l'evoluzione è un'altra. Con questo nuovo processo produttivo, l'azienda cinese delocalizza sul territorio statunitense, farà concorrenza alle aziende americane delocalizzate sul territorio cinese. Un po' come dire che il primo mondo diventa secondo e il secondo diventa primo. È una contraddizione carina. Nessuno al mondo, nemmeno se si trova nel luogo dove il mercato del lavoro è il meno costoso, può competere con noi, ha detto Tang Xing Yong, presidente dell'azienda, su China Daily. I prezzi gli danno ragione. Ogni pezzo costerà 0,33 dollari. Chiederà un tempo compreso tra i 22 e i 26 secondi. Certo è solo l'inizio, l'eccezione è un'ondata. È possibile che l'Arkansas diventi la nuova regione del lavoro gratuito, ma per il momento la Cina resta la prima a produrre e poi esportare vestiti negli USA. 28 miliardi di dollari nel 2016, subito seguita da Vietnam e Bangladesh. Le aziende americane, attratte dai bassi costi del personale straniero, si spostano ancora. Forse il giorno il vuoto che lasceranno lo riempiranno quelle straniere insieme ai robot. Ecco, questa è la situazione, ma non pensiate che con tutte le contraddizioni che poi queste cose porteranno, non porteranno soltanto una questione della disoccupazione, ma confermeranno una serie di teorie, fra cui Rifking, ma prima di tutto Marx, quella della caduta tendenziale del saggio medio del profitto e quindi il produrre sempre di più per avere la stessa quantità di profitto che sarà sempre minore perché la quantità del costo, cioè del valore che viene introdotto per i mezzi di produzione sarà sempre più grande del valore inserito tramite la forza a lavoro. Ma questa non è solo la Cina, tutto il mondo si sta andando verso quella direzione perché se un'azienda automatizza e vende le t-shirt al prezzo generale del mercato, come Marx dice, ogni cosa viene venduta al suo giusto, fra virgolette, prezzo sul mercato, lei abbassando il prezzo di costo può avere un sovrapprofitto, lei è l'azienda che ha automatizzato e ha meno operai, quindi c'è la rincorsa anche delle altre aziende concorrenti ad automatizzare e quindi di conseguenza a espellere altri lavoratori, eccetera, eccetera. Quindi c'è la continua rincorsa e quindi di conseguenza farà abbassare il prezzo del prodotto finale, ma farà abbassare anche il profitto per unità di prodotto in quanto il valore di una merce viene determinato dalla quantità di lavoro che è inserito per quella merce, automatizzando sempre di più la quantità del lavoro si abbasserà. Ma tornando a Bomba, anche l'Italia, attraverso anche l'ultima finanziaria che prevede il contributo del iper ammortamento cosiddetto per la tecnologia, cioè per la robotica, per automatizzare una linea di produzione, nell'ultima finanziaria c'è previsto come quest'anno, quindi anche per il 2018, un iper ammortamento del 250%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, facciamo l'esempio, un'azienda che per automatizzare la propria azienda impiega un milione di Euro, può detrarre due milioni e mezzo dal proprio IRPEG e quindi non pagherà le tasse su quello, ma anche sul reddito prodotto dall'azienda e quindi di conseguenza noi ultimi, siamo quelli che paghiamo attraverso, sappiamo che viene trattenuto direttamente la fonte, chiamiamolo banalmente, le tasse, l'IRPEF, finanziamo per l'80% con l'IRPEF le entrate dello Stato, ebbene noi ultimi che paghiamo le tasse per un valore dell'80% generale, siamo disposti a dare, o non siamo disposti, ci sottraggono dei servizi che dovrebbero essere dati dalle nostre tasse, si sottraggono per darli alle aziende, cioè noi diamo in pratica, se l'azienda ha speso un milione, noi diamo un milione e mezzo all'azienda, perché ha creato il robot, perché ci butterà fuori e noi siamo anche contenti, perché avremo anche meno servizi, perché questi soldi vengono sottratti dai servizi che venivano forniti ai cittadini, cioè il famoso welfare, quindi la pensione, con l'assistenza sanitaria e tutte queste cose, ma se poi ci aggiungiamo anche la defiscalizzazione per ogni persona assunta al di sotto di 30 anni, vediamo in pratica che un lavoratore viene a costare quasi niente per le aziende, mentre gli aumenta la produttività, non solo la produttività all'interno della fabbrica, ma aumenta quello che non vogliono più sentire parlare nemmeno le organizzazioni sindacali ufficiali, in fabbrica aumenta il dispotismo. L'Italia sta andando anche lei verso la robotizzazione, qui avevo dei dati che venivano riportati che in media dicono nonostante i processi di robotica la Cina ha ancora densità inferiore a molti paesi, ha soltanto 49 robot per ogni 10.000 abitanti e la media è 69 robot ogni 10.000. Gli USA hanno 176 robot ogni 10.000 lavoratori, la Corea del Sud 531 ogni 10.000 lavoratori e la Germania 301 ogni 10.000 lavoratori. si prevede che però che questo andamento aumenti a dismisura tra nel 2020 dal 2020 al 2025 perché c'è poi questa rincorsa in continuazione ed è interessante vedere le contraddizioni che questo creerà. Io volevo leggervi l'ultima cosa che è quella non posso non parlarne dei 100 anni della rivoluzione russa ed è interessante ricordare questo ricordare che c'è stata c'è stata questa rivoluzione c'è stato questo sogno degli ultimi sognare la libertà e finalmente avere una vita umana e non una vita da schiavi e salariati e il titolo è così sogno di una rivoluzione siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita questo è tratto da William Shakespeare cosa sarebbe la vita di un uomo senza la possibilità di sognare e cosa sarebbe la vita di una classe oppressa senza la possibilità di sognare la fine dell'oppressione quando si tenta di ragionare sulla rivoluzione d'ottobre a distanza di un secolo forse può essere dovuto andare alle radici della costante onirica o neiros era il nome del dio dei sogni dell'antica grecia che ha caratterizzato e caratterizza l'umanità quanti sogni rivoluzionari segnati dal sangue di quelli che hanno combattuto per la libertà contro l'oppressione sociale di classe sono stati sognati nel corso della storia partendo da queste domande si sviluppa un'analisi di alcuni aspetti della rivoluzione d'ottobre dopo la conquista del potere il partito bolshevico e la sua macchina di potenza statale dovevano affrontare la controrevoluzione interna e le mire partitorie di varie potenze capitalistiche internazionali nel testo del 1955 questo è un testo della corrente bordighiana che sappiamo che Bordiga è il fondatore è uno dei fondatori ma è stato segretario del partito comunista d'Italia nel 21 le grandi questioni storiche della rivoluzione russa descrive l'impressionante bollettino di guerra di quel periodo fondamentale dato dal tremendo compito di porsi alla testa di una rivoluzione doppia cioè di un processo rivoluzionario con doppio compito da una parte un primo compito immediato all'interno del cadente impero zarista di risolvere i problemi di una rivoluzione democratico-borghese di fronte dei quali la stessa borghesia rincula per paura dell'ascesa in campo del proletariato non solo in Russia ma in gran parte dell'Europa e dall'altra un contemporaneo secondo compito consistente nel legare assolutamente la rivoluzione in Russia la dittatura democratica del proletariato e dei contadini alla possibilità della rivoluzione comunista mondiale in ciò l'apparente contraddizione la macchina statale nata nell'ottobre 17 è una dittatura democratica del proletariato e dei contadini guidati dal partito comunista mentre l'ottobre è rosso la macchina stato guidata dal partito bolshevico dimostra sul campo pratico della guerra contro una moltitudine di minacce e di nemici la propria potenza e la fine solo questo conta fino ad allora la domanda che deve fare il partito giunto al potere ha in fondo avuto una sola risposta combattere per non perdere la rivoluzione di ottobre aveva suscitato molti sogni di libertà negli oppressi di tutto il mondo poi sappiamo com'è finita il sogno si è trasformato in incubo in quanto la vittoria delle forze contro rivoluzionari in Russia e in Europa ha fatto precipitare la società sovietica nell'incubo di un capitalismo di stato indicato come socialismo dalla contro rivoluzione ad un certo punto imperante da rivoluzione doppia la rivoluzione russa si ripiegò in rivoluzione puramente borghese cioè il potere politico perse i suoi caratteri proletari divenne perfetta espressione delle forme economiche che si stavano sviluppando in Russia e che erano di carattere capitalistico molte formule sono state impiegate per indicare la fine del sogno di tanti sfruttati e oppressi presenti in tutte le lande del globo la rivoluzione tradita la rivoluzione che come Saturno divore i propri figli o ancora l'utopia che si trasforma in anti-utopia feroce dei gulag e della repressione dei vecchi rivoluzionali le condizioni socio-economiche che hanno determinato gli eventi del 17 non sono mai scomparse anzi sono oggi ancora più presenti di allora a cent'anni di distanza gli eventi di quel tempo ritroviamo nel presente gli stessi fattori di cui essi sorselo e dunque lo stesso bisogno di sognare il loro superamento è proprio necessario sottolineare una volta di più l'urgente necessità del comunismo basterebbe guardarsi intorno per avere la risposta il modo di produzione capitalistica assomiglia sempre più a uno equilibrista cieco e sganciato che si avventuri su una fune sbrindellata dalle due estremità da una parte i burattini del capitale insistono che si sta uscendo dalla crisi da ogni parte si moltiplicano i segni che la crisi c'è morde e accumula altri materiali esplosivi destinati prima o poi a scoppiare e ci si potrebbe anche fermare qui ma è impossibile è impossibile cioè trascurare le devastazioni micidiali dell'ambiente la brutalità i massacri delle decine di guerre in giro per il mondo gli sconquassi la ferocia che lo accompagnano dal disgustore la macelleria di intere popolazioni lo sfruttamento bestiale della forza lavoro che cresce ad ogni latitudine l'arroganza l'indifferenza il peggioramento continuo dei rapporti individuali e sociali l'allenazione diffusa fra stati giovanili senza prospettive per il futuro la violenza che colpisce donne e bambini l'isolamento disperato in cui giacciono disoccupati e anziani la furia che si rovescia sui migranti e stranieri insomma tutto ciò che costituisce la materia quotidiana del vivere in questo modo di produzione dominato dalla legge del porfitto a ogni costo dalla competizione e dalla guerra di tutti contro tutti il migliore dei mondi possibili da tutti i pori della società capitalistica grondante sangue quella necessità di far sentire in maniera drammatica la stessa rabbia in realtà un liquame puzzolente fatto di ignoranza e mistificazione con cui la classe dominante tramite i suoi scribacchini più o meno prezzolati continua a scagliarsi contro la rivoluzione d'ottobre sta a dimostrare in maniera lampante che la necessità del comunismo agita abbondantemente i suoi sonni trasformandolo in incubi cui non può sfuggire nemmeno con dosi elevati di opiacei o di altre doghe sintetiche o ideologiche nel secolo che è trascorso il proletari mondiale ha subito l'assalto della classe dominante sia quello frontale inevitabile del nemico di classe sia quello più subdolo e distruttivo dei finti amici più o meno apertamente ma senza schierarsi a fianco del potere è stato sconfitto sul campo più spesso in maniera sanguinosa e già c'è ancora oggi schiacciato contro il peso di quella sconfitta ma noi comunisti sappiamo non per fede religiosa ma per esperienza storica che oltre un certo limite il peso della sconfitta si trasforma in spinta alla ribellione che lo schiavo non sopporta all'infinito il bastone che l'oppresso prima o poi rialza il capo e reagisce con questo finisco vi saluto e ci sentiamo fra 15 giorni ciao a tutti ciao a tutti